Allora, Pippo, si festeggia con i tuoi tifosi e si può tirare già un riassunto di una stagione che comunque ti ha visto sul podio dell'Olimpiadi, ti ha visto sul podio dei mondiali e poi sei stato uno dei pochi a battere Pogacar, perché nella cronometro del giro sul lago di Garda hai vinto tu. Sì, questa annata era una annata difficile, con l'Olimpiadi è sempre un po' un'incognita, la preparazione è sempre più specifica, sempre più attenta e consumi tante, tantissime energie, però è stata una stagione dove comunque le medaglie sono state portate a casa, non sono state quelle più pesanti, però sono state comunque medaglie importanti. Ho avuto anche un po' di sfortuna, diciamo, anche rivalutare, questa sera mi sono trovato con i miei amici di infanzia e durante il periodo di stacco abbiamo proprio fatto a mente fredda un riassunto della stagione, anche soltanto per la Sanremo, dove ero arrivato non come l'anno scorso, ma ero arrivato comunque in una buona condizione, ero riuscito ad essere là insieme ai migliori. Poi per una perdita di pressione nella ruota posteriore, col cambio che mi è andato in crash mode, quindi non potevo più cambiare i rapporti, ho dovuto buttare via una Sanremo dove magari potevo arrivare giù benissimo insieme agli altri e fare anche io qualcosa di carino. Però dai, è andata bene, è stata una stagione intensa, lunga e con un finale di stagione che volevo potesse essere migliore. Sono riuscito a riprendermi dopo le fatiche delle Olimpiade per preparare un mondiale al meglio dove chi l'ha vinto l'ha messo e se c'era qualche chilometro in più l'avrei perso, quindi andrà per l'anno prossimo. O forse no, perché c'è una crono bruttina, l'anno prossimo i mondiali a Kigali praticamente è una crono scalata, ha messo una salita di 6 chilometri in una cronometra. Quindi vedremo come sarà il futuro, però come stagione non mi posso lamentare, ho fatto tutto il meglio che potevo e adesso speriamo soltanto di riuscire a recuperare, per rappresentarci questo 25 che viene con le gambe migliori per fare il miglior risultato. Ecco Pippo, ma una stagione come questa che è appena terminata con gli Olimpiadi che insomma hanno fatto un po' da punto focale, dal punto di vista mentale a un ciclista professionista quanto porta via? Sicuramente fisicamente intensa, ma di testa quanto ti tra virgolette finisce? Credo che l'Olimpiadi in sé a ogni atleta dia una grande mazzata, chiamiamola così, perché sei veramente sotto tensione per tanto tempo, però poi quando finisce l'appuntamento hai proprio quel sospiro di sollievo che ogni tanto proprio ti svuota. In più forse nel mio sport devi far calcolo che ci sono altri 60 giorni di corsa che altre discipline non hanno, quindi quello alternato alla pista, quest'anno è stato un anno di quelli intensi dove le energie mentali veramente vanno a scemare giorno per giorno. E poi magari non tutti lo comprendono, sì, argento, argento, però bisogna anche mettere sul piatto il discorso che non c'è solo Filippo che corre, ma ci sono tanti altri che si preparano per vincere e magari per battere anche i favoriti come Pippo, quindi è comunque una lotta continua. Sì, il bello di questo sport alla fine è che siamo sempre a lottare per battere il secondo, quindi sei sempre lì a lottare, lottare, lottare e ogni volta il gap può o stringersi o allargarsi, però sapendo di aver sempre lavorato bene, sapendo di aver fatto sempre tutto al meglio, è una soddisfazione riuscire a rappresentare il proprio paese e alle gare comunque in un certo livello. E fatti i complimenti a Milan, il record penso che poi te lo andrai a riprendere, no? Sì, alla fine i record sono belli per essere battuti, però alla fine rimangono le vittorie, quindi in pista i miei sette titoli mondiali ce li ho, quindi posso anche cominciare a focalizzarmi su strada, cominciare a macinare un po' più di pietre e vediamo cosa verrà fuori con su 25. Di sicuro la pista non verrà abbandonata per una questione di allenamenti, perché riesci a darti quei cambi di ritmo che servono anche su strada, quindi ovviamente non ci saranno gare, non ci saranno trasferte in altra parte del mondo, coppe del mondo, però gli allenamenti continuerò a mantenere, perché sento proprio che mi dà qualcosa in più che normalmente non avrei. Hai già in mente una sorta, abbiamo un insetto che ci gira intorno, hai già in mente una sorta, è presto chiaramente mi rendo conto, una sorta di idea di calendario, cosa fa, so che ti piacerebbe tornare a correre le classiche, per esempio, questo l'hai dichiarato anche tu già. Sì, il programma lo stiamo facendo in tutti i giorni, una bozza molto ampia, per poi arrivare col primo ritiro che avremo a novembre, dal 4 al 7 a Manchester, per le varie visite mediche, dove si comincerà a fare un pochettino un punto della situazione, su come potrebbe essere il calendario. Poi finito quello cercheremo con dicembre di avere un calendario molto più preciso per arrivare agli appuntamenti pronti. L'ultima cosa, la festa con i tifosi, quanto li senti vicini? I tuoi tifosi, quelli che però ci credono sempre, che quando arriva un argento non ti criticano, ma ti dicono hai fatto una prestazione sui livelli del primo complimenti. Proprio i tifosi e gli amici, quelli che ti vogliono bene, senti la loro presenza durante la stagione? Beh, di sicuro la loro presenza conta e non solo, perché appunto quando, anche una giornata no, che non sempre è un argento, perché magari fosse sempre un argento in bronzo, a volte è molto meno, e avere comunque quella persona non comunque di parte, ma che comunque è realistica, che ti riesce a dare un punto di vista anche al di fuori del lato sportivo, ma anche personale, è benvenuta, perché è facile pensare soltanto alla parte sport, però a volte devi pensare anche ai livelli di parte personale, quindi testa, conta, e cerchiamo di tenerla sempre alta.